Benvenuti in questo mio nuovo video patch 9.20 di Fortnite Andiamo a vedere le principali novità Innanzitutto hanno aggiunto l'inversione tempesta Vediamo subito il video trailer Guardate Tu la lanci E praticamente inverte la tempesta Guardate Si può vedere da questo trailer Infatti qui non subisce danno anche se dentro la tempesta Perfetto Praticamente se tu sei fuori dalla tempesta e lanci questo oggetto Si creerà un effetto tempesta dentro una specie di cupola Mentre se tu sei dentro la tempesta Lanci questo oggetto e si creerà sotto una cupola Una zona protetta dove non subirai i danni dalla tempesta Poi guardate Armi e oggetti in versione tempesta Oggetto da lancio che esplode all'impatto e crea una zona vuota di forma sferica Va bene Pila massima 1 Si rilascia in gruppi da 1 La zona dura per 20 secondi prima di dissolversi Disponibile con rarità epica Si trova nel bottino a terra Nei forzieri e nei distributori automatici Immagazzino tutte le varianti di fucile da caccia Per quanto riguarda invece i trasportatori di bottino Hanno ridotto la disponibilità del pacchetto fucile di precisione Dal 12,5% all'8,45% Hanno ridotto anche la disponibilità del pacchetto esplosivo Hanno modificato anche la torretta montata Il tempo di surriscaldamento è ora prolungato del 20% Qui spiegano anche perché hanno fatto queste modifiche Hanno anche un po' nerfato l'arco esplosivo Infatti aumentato il tempo massimo di carica dell'arco esplosivo Da 1 secondo a 1,25 secondi Poi hanno corretto anche altre cose Correzioni di bug Hanno risolto tantissimi bug Guardate qui potete vedere tutta una lista Rotazione, modalità a tempo Scontro, all'arma bianca I forzieri del tesoro contengono armi epiche o migliori E di tanto in tanto persino un infinity blade Affronta i tuoi avversari per scoprire chi è degno di quell'arma e chi no Poi il gioco La funzione di cambio automatico dei materiali è stata rimossa ed è sempre attiva Perfetto Hanno anche aumentato la durata di tempo In cui l'ultimo giocatore che infligge il danno può ricevere crediti Per l'eliminazione Ad esempio danni da caduta modificata da 15 secondi a 60 secondi Auto eliminazione da 15 secondi a 60 secondi Eliminazione di tempeste da 5 secondi a 60 secondi Hanno corretto anche vari bug Hanno fatto anche delle modifiche per quanto riguarda l'audio di gioco Poi il mobile Va bene ci sono tutte queste modifiche Correzioni di bug Va bene Generale Ok Sono tutte queste modifiche Interfaccia utente Abbiamo aggiunto la possibilità di annullare un nuovo acquisto nel negozio di fortnite Subito dopo aver effettuato un nuovo acquisto avrai per un tempo limitato la possibilità di annullarlo Purché tu rimanga sulla schermata di acquisto Praticamente se noi andiamo nello shop e compriamo una cosa che non vogliamo Possiamo subito annullarla Basta rimanere nella schermata dello shop Dopo aver annullato un acquisto non potrai annullare quello stesso acquisto per un certo periodo Potrai però annullare senza problemi altri nuovi acquisti Se scegli di annullare un acquisto la proprietà di quell'oggetto verrà revocata e ti verranno restituiti i relativi VBAC La funzionalità di annullamento segue gli stessi requisiti di idoneità delle richieste di reso Con cosa è possibile usare la funzione annulla? Articoli disponibili per l'acquisto con VBAC nel negozio oggetti e moto Deltaplani, strumenti di raccolta, dorsi, decorativi, costumi, coperture e musica Con cosa non è possibile usare la funzione annulla? Offerta a tempo limitato nel negozio come il pacchetto leggende lava, il pacchetto leggende congelate E il pacchetto laguna VBAC Regali, pass battaglia, livelli pass battaglia, pacchetto fondatore, aggiornamento al pacchetto fondatore Lama pignata, salva il mondo, oggetti settimanali e degli eventi Salva il mondo Poi hanno anche modificato altre cose Modalità creativa Novità, hanno aggiunto questa roba Perfetto, guardate Ok, ci sono nuovi prefabbricati Guardate le isole Ok Armi e oggetti Aggiunto un oggetto bandiera all'inventario consumabili Si equipaggia quando viene raccolto Finché è equipaggiata disattiva la costruzione e impedisce di equipaggiare altri oggetti dall'inventario Può essere usata come arma da mischia o per raccogliere materiali oppure lanciata a un compagno Quando viene generata da un dispositivo generatore oggetti di cattura La bandiera eredita il colore primario del dispositivo Ok Ha aggiunto anche delle cose Ora tutti prefabbricati Guardate quante cose Salva il mondo Novità Ci sono queste novità Missioni, interfaccia utente, prestazioni Eroi Hanno modificato E basta Praticamente questa era la patch 9.20 di Fortnite Spero che questo video ti sia piaciuto Se è così iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su Fortnite Lascia un bel mi piace per supportarmi Commenti e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi